Benvenuti in questo nuovo nuovo video, ben seguiti e ben buoni già al titolo in questo video andiamo a provare a vedere il nuovissimo pacchetto RIDEBENE CHI DI DE ULTIMO che è finalmente arrivato in formato digitale qui appunto entrare tutti quanti gli oggetti come si presenta qua all'interno e allo shop e molto ma molto altro però prima di cominciare come alzate vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così se siamo aggiornati su questi tipi di video vi rilevi con lo schieno a base a taglia infine condividete il suo video di tutti i tuoi amici e mi fai vedere anche a loro il nuovissimo pacchetto RIDEBENE RIDE ULTIMO finalmente disponibile all'interno del negozio oggetti di Fortnite quindi partiamo subito infatti antissimi di voi negli scorsi mesi e le scorse settimane mi hanno sempre fatto la domanda appunto quando è che arrivasse questo pacchetto all'interno dello shop perché appunto questo pacchetto fino appunto a qualche ora fa era disponibile solamente tramite un sito di giochi e riscattare appunto il codice per ottenerlo oppure potevamo andare in qualsiasi negozio videogiochi e andarlo a riscattare e andare a comprare proprio la versione fisica infatti ragazzi proprio qui all'interno del negozio oggetti perché esattamente pochissimo tempo fa è apparso finalmente questo pacchetto infatti vi dissi proprio che sarebbe arrivato ai primi di dicembre ed effettivamente è stato così infatti oltre appunto a questo nuovo pacchetto di Kratos arrivato oggi tutte queste altre nuove skin anche questa qui a tema natalizzo penso la prima finora a tema natalizzo visto che ci stiamo avvicinando sempre di più appunto al periodo di Natale ecco qui il pacchetto Fortnite il bando ride bene chi ride ultimo infatti esattamente qui nella sezione a tempo come il pacchetto il serpente di strada infatti Neo ci prova a cliccare sopra il suo costo come potete ben vedere di 29,99€ e possiamo vedere tutti quanti gli oggetti infatti il genio prende molte forme umorismo assassino coltivare il caos con piante velenose o sormeggere l'isola con le tue meravigliose intenzioni e spesso ci accompagna alla follia diventa la nemesi di tutti con il bando ride bene chi ride ultimo include costume di joker anche stile aggiuntivo dorso decorativo di chigno di morte poi abbiamo il piccone tiro mancino abbiamo il piccone della medita di joker la scia pesca una carta il costume poi sono nivi che include anche uno stile aggiuntivo abbiamo il dorso decorativo florileggio e poi abbiamo il piccone ascia di ivy infine abbiamo il set di mida del remida esattamente la skid che include anche uno stile aggiuntivo il dorso decorativo che è appunto emblema di mida e il piccone incoronatore e più appunto in totale acquistando il pacchetto otterremo ben 1000 di bucks quindi appunto facciamo esamine oggetti ecco qui quindi potete anche acquistare negozio oggetti a 29,99€ e appunto per tutte quante le piattaforme se ancora non è disponibile all'interno del vostro account significa che arriverà entro 24 ore però appunto quasi a tutti adesso è disponibile quindi appunto esaminiamo tutti quanti gli oggetti abbiamo appunto oggetto prima la skin di joker con i suoi due stili aggiunti abbiamo lo stile predefinito abbiamo poi lo stile col cappello e con la giacca e poi abbiamo lo stile solamente con la giacca ma senza cappello andiamo avanti poi andiamo appunto alla skin di poison ivy abbiamo appunto lo stile predefinito e lo stile umano per il mio lo stile umano mi piace molto di più rispetto a quello predefinito però appunto anche questo qui predefinito non è male ci sta andiamo avanti andiamo alla terza skin che è quella di remida probabilmente una delle migliori di questo bundle insieme a joker ovviamente questa skin presenta remida appunto stile predefinito e poi abbiamo lo stile elmo intero davvero una skin molto molto bella andiamo avanti abbiamo poi il dorso decorativo di poison ivy abbiamo poi il dorso decorativo di joker eccolo qui poi abbiamo il dorso decorativo di remida eccolo qui davvero molto molto bello poi abbiamo anche i doppi picconi di remida in coronatore perfetto bellissimi andiamo avanti poi abbiamo anche il piccone di poison ivy e per concludere abbiamo anche il piccone di joker e per fini abbiamo un altro ancora piccone di joker ma prova di immortalare la sua faccia e appunto anche la sua scia questa qui delle carte pesca una carta quindi davvero un pacchetto molto molto bello potete acquistare ora l'interno dei negozi oggetti per il costo di 29 euro e 99 per esempio se vuole andrete appunto ad acquistare ricordo che chi vuole supportare il canale tutti quanti i contenuti vengono portati ogni singolo giorno e se appunto vado ad acquistare il suo pacchetto vi ricordo di usare il mio codice creatore sempre se volete appunto esattamente così a schermo quindi i daccini tutto quanto grande oppure tutto quanto piccolo non dovrebbe fare differenza lo inserite fate accetta e se vuole vi mandate anche la foto su instagram così appunto vi potrò ricondividere all'interno delle mie storie quindi spero che questo video sia piaciuto fai sempre se potrete acquistare questo nuovissimo pacchetto che tanto nuovo non è però è arrivato appunto all'interno dei negozi oggetti come l'altro vi ricordo di lasciare un bel like iscrivervi al suonare tenendo la campanella delle notifiche così se siamo aggiornati su questi tipi di video e le live con lo schieno basa a taglia infine a condividere questo video e a tutti i tuoi amici ma vedete anche a loro appunto tutto questo nuovissimo pacchetto di giochi che è il brida e bene crida e ultimo ora è disponibile all'interno dei negozi oggetti di fornet noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live e alla prossima live ciao ciao